Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale di Erzereggia. Allora, oggi volevo parlarvi di 5 abitudini magiche, appunto piccoline, molto semplici da fare e da seguire ogni mattina prima di iniziare la nostra giornata, prima di andare al lavoro, prima di andare a scuola, prima di andare in università, insomma da appena svegli, seguire questi piccoli 5 passi secondo me aiutano a farci essere più centrati durante la giornata, farci essere un attimino più connessi con noi stessi e ci aiutano soprattutto a iniziare con la giusta carica e iniziare bene appunto la giornata perché so che la mattina è sempre un momento abbastanza difficile per tutti e ci serve comunque motivazione, ci serve carica, ci serve energia, ci serve positività per affrontare appunto una lunga giornata di lavoro, comunque una lunga giornata pesante che magari sappiamo che ci attende. Quindi con questi piccoli 5 passi secondo me che prendono davvero poco tempo in effetti perché ho pensato e ho sperimentato ovviamente su me stessa prima di fare questo video da un po' di tempo, prendono veramente poco tempo. Ho sperimentato questi piccoli 5 step appunto mattutini, una sorta di routine appunto mattutina che potesse essere appunto breve proprio perché so che la mattina andiamo spesso di fretta, spesso non abbiamo magari tempo di metterci lì a non so praticare o fare cose diciamo più impegnative e che richiedono magari più tempo. Quindi ho proprio diciamo pensato a 5 piccolissime cose che potessero comunque nonostante appunto la semplicità e il poco tempo che appunto esse richiedono potessero essere comunque utili per iniziare al meglio la nostra giornata. Prima di iniziare il vero e proprio video e di dirvi appunto di farvi conoscere questi 5 step, volevo ovviamente ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e volevo anche dirvi, so che io sono poco tecnologica e in effetti il mio fidanzato mi ha fatto scoprire che si possono attivare i sottotitoli su questo canale. Non lo sapevo perché non sono una youtuber o un influencer però siccome so che ci sono persone che magari mi possono seguire da altri paesi o che magari sono straniere proprio perché vivendo in Scozia magari conosco persone scozzesi o comunque straniere possono attivare i sottotitoli, si possono attivare i sottotitoli in inglese. Quindi Detto ciò iniziamo subito con la prima abitudine, abitudine numero uno da fare subito la mattina appena svegli, nel vero senso della parola. Quindi proprio appena ci svegliamo, appena avremo gli occhi e ci stiamo per alzare, quando ancora non ci siamo alzati dal letto, rimaniamo un attimino a letto, seduti o sdraiati come volete e semplicemente ci prendiamo ma proprio due minuti di numero per centrarci un attimino. Non è una meditazione, è semplicemente un fatto di stare due minuti di numero centrati su se stessi, pronti per affrontare la giornata ma soprattutto connessi con se stessi. Quindi dimenticarsi un attimo di tutto ciò che dobbiamo fare durante la giornata, perché la mattina, specialmente se ci aspetta una giornata diciamo pesante, è il momento in cui il nostro cervello inizia subito a lavorare, perché appena svegli appunto il cervello si sveglia e inizia diciamo a elaborare le cose che dobbiamo fare durante la giornata, inizia a farci pensare, iniziamo a pensare a ciò che ci attende appunto al lavoro che dovremmo fare, alle cose che appunto, gli impegni che abbiamo da fare durante la giornata. Quindi dobbiamo cercare di fermare un attimo questa cosa e di non iniziare la giornata in maniera troppo frenetica. Questo lo dico, magari non succede a tutti, però a me succede e quando ho tante cose da fare appena sveglia già sono, già mi sento magari in agitazione, perché inizio a dire ho da fare questo, questo, quell'altro e metto le cose in fila, tutte le cose che devo fare e questo non fa altro che farci iniziare la giornata con molto, diciamo, con molta confusione mentale e con poco, diciamo, con poca connessione con noi stessi, cioè essendo poco centrati e essendo semplicemente, diciamo, portati via da questo turbine di pensieri e di cose che dobbiamo fare, insomma siamo trascinati subito via da i nostri pensieri accumulati che si accumulano uno dopo l'altro e non finiscono più poi durante la giornata. Continueranno questi pensieri e continueremo ad essere sempre, 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 con la mente sempre attiva e questo non farà altro che stressarci sempre di più. Quindi da appena alzati proprio, già dire stop, già dire ok, mi sono alzato, mi sono svegliato, svegliata, però mi prendo un attimo due minuti per me stesso o per me stessa per centrarmi e dire ok, sono sveglia, inizierò la mia giornata al meglio, sentite la connessione con voi stessi, sentite il vostro corpo, questo lo scegliete voi come farlo. Io principalmente mi piace mettere l'attenzione sul mio corpo e centrarmi un attimino nel momento, nel mio corpo e ritrovare appunto la connessione con me stessa in modo da poter affrontare poi la giornata, cioè alzarmi in maniera più consapevole e non in maniera appunto inconsapevole e identificato completamente nei miei pensieri, nei miei mille pensieri appunto. Ok, il secondo punto potrebbe essere molto scontato e probabilmente lo è, probabilmente l'avete sentito moltissime altre volte, non solo in tema ovviamente magico, anzi fa proprio bene in generale ed è bere l'acqua. È una cosa, come ho detto, che sembra scontata ma spesso sottovalutata perché magari la mattina non viene proprio per forza voglia di acqua, magari abbiamo fame prima, vogliamo fare colazione, però prima di fare colazione, dopo che abbiamo fatto la centratura dei due minuti appunto ci alziamo, beviamo un bicchiere d'acqua semplicemente. ovviamente io non sono una, non so, non mi occupo di nutrizione, non mi occupo di fitness o benessere del fisico ovviamente, però so che oltre appunto a fare bene a livello fisico perché tanti anche appunto medici consigliano ovviamente di bere tanta acqua e di iniziare appunto subito dalla mattina, specialmente a stomaco vuoto, io lo dico ovviamente perché qui sul canale si parla di questo, lo dico più da un punto di vista energetico, magico ovviamente, perché l'acqua è da sempre fonte e simbolo di purificazione, quindi andiamo un po' a purificare il nostro corpo, cioè bevendo l'acqua noi magari immaginiamo anche l'intento che quell'acqua, che vogliamo dare a quell'acqua, quindi visualizziamo o carichiamo l'acqua come volete, ovviamente non sto qui a rispiegare le tecniche di caricamento e cose del genere perché ho fatto già altri video al riguardo, però se volete poi altri video mi fate sapere, però appunto possiamo comunque imprimere un certo intento in quell'acqua che andremo a bere, caricarla con determinate vibrazioni, con determinate energie e poi ovviamente berla, quindi questo farà sì che noi acquisiremo quello che appunto abbiamo impresso nell'acqua appunto, quindi non solo ci andremo a purificare dal punto di vista anche fisico ovviamente del nostro corpo, ma anche energetico perché l'acqua come sappiamo è simbolo di purificazione, lava via le energie negative, le energie pesanti e ci permette quindi facendolo appunto di mattina, bevendo questo bicchiere d'acqua magari caricato appunto di mattina ci permette di iniziare la giornata in maniera pulita, ecco è una fonte di quasi pulizia del corpo e dell'anima se vogliamo, quindi mi raccomando ovviamente ripeto io preferisco caricare l'acqua perché sì fa bene dal punto di vista ovviamente fisico però noi qui stiamo parlando di magia, quindi ovviamente preferisco sempre imprimere un intento magico, una vibrazione magari quel giorno mi servirà tanto coraggio, magari quel giorno mi servirà tanta forza, magari quel giorno mi serve non so protezione o qualcosa, io vado a imprimere con l'imposizione delle mani o qualsiasi maniera che appunto vi piace, vado a imprimere quella vibrazione, vado a caricare quell'acqua e poi appunto me la bevo chiedendo appunto all'acqua di depurarmi, pulirmi, purificarmi e appunto far scorrere dentro di me quella vibrazione che ho impresso precedentemente. Poi il terzo punto, allora questo terzo punto ovviamente è quello credo che sì, quello che richiede un pochino più tempo che ovviamente se abbiamo tempo sarebbe bene fare, se non abbiamo tempo pazienza ovviamente, ma possiamo anche fare cose molto veloci e questo punto è quello della, non è un nome preciso, ma è una sorta di meditazione barra yoga barra risveglio del corpo, cioè tutto quello che ci fa risvegliare il nostro corpo, quindi che sia appunto una meditazione per iniziare al meglio la giornata, che sia una meditazione per attivarci, che sia uno yoga per chi fa yoga, uno yoga di risveglio, appunto per attivare i muscoli, per attivare il corpo, che sia una pratica di stretching, che sia il saluto al sole, che sia quello che volete, purché sia una sorta di movimento barra meditazione che serve, che serva poi a attivare bene il corpo, perché so che la mattina magari siamo molto stanchi, addormentati, cioè magari ci sentiamo riposati perché ovviamente abbiamo dormito, però non siamo subito pronti e scattanti per iniziare la giornata insomma, specialmente se non abbiamo magari ancora bevuto il caffè e quindi ancora siamo un po' addormentati e soprattutto il nostro corpo è addormentato, quindi questo punto riguarda specialmente il corpo, cioè voi dovete far sì che il corpo si risvegli e che sia pronto ed abbia le forze fisiche e la flessibilità per affrontare la giornata che dovete affrontare e per quindi poi far scorrere tutte le energie in maniera fluida, in maniera appunto scorrevole dentro il vostro corpo dalla mattina fino alla sera. Per questo spesso consiglio lo yoga, perché ultimamente, parentesi, ultimamente mi sto trovando bene a fare yoga, sapete che la filosofia e la spiritualità orientale non è che mi appartenga molto, però lo yoga preso come pratica fisica, almeno per me, poi chi segue le cose orientali per carità ben venga, però insomma almeno come pratica puramente vista dal punto di vista fisico, lo trovo molto rigenerante e molto rilassante e ovviamente quello che dobbiamo fare la mattina non è tanto uno yoga rilassante o comunque non è tanto una meditazione rilassante o insomma uno stretching rilassante, ma è invece un caricamento, quindi uno yoga, una meditazione, uno stretching o quello che sia, insomma dei movimenti che ci attivino e dei movimenti che ci carichino e che risveglino un po' i nostri muscoli. Possiamo semplicemente anche fare, non so, un riscaldamento muscolare, cioè per chi non so, fa palestra o qualsiasi attività sportiva sapete benissimo come fare un riscaldamento muscolare, quindi semplicemente partire magari dalla testa ai piedi e semplicemente andare lì a risvegliare, riscaldare tutto il nostro corpo per affrontare bene tutti gli impegni e tutte le cose anche a livello fisico che dovremmo affrontare durante la giornata e questo anche qui, anche questo ha due diciamo vantaggi, ha il vantaggio ovviamente a livello fisico perché ovviamente fa bene proprio al corpo, al fisico fare determinati movimenti, fare determinate cose, riscaldarsi eccetera, ma fa bene anche la nostra energia proprio perché ci sono determinati movimenti, determinate meditazioni, determinate appunto cose che possiamo fare con il nostro corpo che mettono in circolo determinate energie e che metteranno quindi in circolo le giuste energie e soprattutto faranno fluire nel giusto modo le energie perché spesso abbiamo dei blocchi energetici, ok? Quindi questo farà sì che non solo il nostro corpo si risvegli, si riscaldi e sia pronto per poi affrontare la giornata ma anche appunto le energie che ci sono in circolo nel nostro corpo rimarranno diciamo, cioè saranno più più fluide, ok? Scorreranno meglio, saremo più fluidi, avremo meno blocchi energetici, meno intoppi diciamo, ok? In modo da essere più centrati, anche qui avere le energie che scorrono in maniera serena, in maniera fluida, senza intoppi, senza ostacoli che poi ovviamente ci faranno comodo appunto durante la giornata. Quarto punto invece, allora, questo è una cosa che io faccio personalmente e che non dovete ovviamente per forza replicare così come la faccio io, ovviamente come tutti gli altri punti, cioè questi sono dei punti che io ho trovato personalmente leggendo libri o insomma sperimentando su di me, ovviamente non è detto che quello che fa piacere a me, quello che fa bene a me faccia bene anche a voi, però come sapete io qua condivido e quindi vi dico la mia esperienza. Allora, una cosa che io amo tantissimo fare la mattina, proprio poco prima di uscire, dopo che mi sono preparata e tutto, è andare sul mio altare e fare una purificazione di me, cioè autopurificarmi, ok? Fare una sorta di saluto al mio altare, cioè dare diciamo una sorta di buongiorno al mio altare e poi passare all'autopurificazione che di solito faccio con il palo santo, quindi semplicemente prendere il palo santo, accenderlo e passarlo su tutta la mia persona diciamo in modo da essere purificata prima di uscire appunto. Perché poi sappiamo che durante il giorno magari andremo ad affrontare, andremo ad avere a che fare con energie pesanti, magari con energie negative, quindi è pure giusto e corretto secondo me prepararsi ed essere comunque pronti e al punto giusto per poi andare incontro alle cose che abbiamo da fare durante il giorno. E quindi la purificazione secondo me è ottima e ovviamente potete farla come volete, cioè potete farla come il palo santo, come faccio io, con qualsiasi altra cosa. A volte la faccio anche con un mazzo di piume e semplicemente mi spazzo via diciamo appunto con le piume o anche con una scopina, se volete, di quelle appunto fatte di paglia o quello che sia e me la vado a passare così sulle spalle come a spazzolare via, a spazzare via la negatività per purificarmi. E questo ovviamente prende veramente pochissimo tempo perché c'è davvero due minuti veramente... Io ovviamente lo faccio in relazione appunto al saluto all'altare perché tengo tutte le mie cose sull'altare. Ovviamente sono adesso fortunata che posso avere un piccolo spazio, un piccolo altare fisso dentro casa dove appunto tengo lì appoggiate tutte le cose e c'è anche il palo santo e c'è anche il mazzo di piume e tutto quanto quello che mi serve appunto diciamo di base. Però chi non ha un altare fisso e chi magari ha un altare mobile magari non avete nemmeno un altare, semplicemente avete un posto vostro, uno spazio vostro sacro o anche se non ce l'avete, anche semplicemente se lo fate seduti o sul letto o in piedi davanti allo specchio o in piedi vicino a un posto che più vi piace insomma dentro casa qualsiasi esso sia, la purificazione è importante. A me piace dare una sorta di buongiorno appunto al mio altare proprio perché mi fa iniziare la giornata al meglio perché il mio altare ovviamente mi dà vibrazioni e sensazioni positive perché ovviamente io l'ho creato, l'altare ha le mie energie, ha le mie cose e soltanto vederlo ovviamente mi mette gioia, mi mette felicità, mi mette calma e mi trasmette tutte le vibrazioni che ovviamente io ho impresso nell'altare quindi per questo mi piace farlo vicino all'altare proprio perché inizio al meglio la giornata con quelle vibrazioni e poi purificandomi appunto. L'ultimo punto invece, quinto punto, è un consiglio che io amo semplicemente fare quasi tutti i giorni e proprio prima di uscire, cioè proprio l'istante prima che usciamo, scegliamo una pietra o un amuleto insomma da portare con noi durante il giorno. Io normalmente scelgo una pietra differente più o meno ogni giorno. Lavoro moltissimo con le pietre e quindi io di solito mi porto dietro le pietre anche perché ho magari delle collane fatte con la gabbietta intrecciata, non so se avete capito qual è, quella insomma che si può aprire e posso infilare i cristalli che voglio, le pietre che voglio. Quindi ogni giorno posso infilare un nuovo cristallo, una nuova pietra, una pietra differente e quindi posso portarle con me come collana appunto, ma semplicemente posso anche metterla in tasca o metterla in borsa, metterla nel portafoglio o cose del genere. Insomma, quindi io amo lavorare con le pietre ma potete ovviamente portare anche un amuleto, portare anche un simbolo che vi servirà durante quella giornata portare, non so, un sacchettino di erbe, se vi piace di più lavorare con le erbe ovviamente anche io vario durante le giornate perché non lavoro solo con le pietre però trovo che le pietre siano, non so, piccole e facili da portare in giro e addosso sempre con noi appunto, anche specialmente se è possibile a contatto con la pelle quindi magari lo mettete dentro la maglietta o insomma vicino a voi il più possibile. Per cui non è importante tanto cosa vi portate, cioè l'oggetto che vi portate, che possa essere la pietra che possa essere un amuleto o un simbolo, un oggetto che secondo voi vi servirà durante il giorno ma è importante quello che simboleggia, quindi perché io mi porto le pietre e perché ogni pietra appunto ha un significato e quindi io ogni giorno vado a scegliere la pietra o quello che sia con una determinata vibrazione che so che mi servirà durante quel giorno quindi se quel giorno magari, non so, ho un esame o ho una cosa da affrontare oppure so che quel giorno mi servirà a forza, so che quel giorno mi servirà a coraggio oppure so che quel giorno sono un po' stanca e quindi magari mi serve, non so, una pietra che mi carichi oppure mi sento un po' spenta e più che spenta magari mi sento un po', non so, ho bisogno di protezione da qualche energia negativa perché magari mi sento un po' così tutte le cose che appunto sentiamo durante la mattina, sentiamo di avere bisogno poi durante il giorno possono essere affrontate appunto e possono, questi piccoli strumenti come le pietre appunto o l'amuleto che sia, può essere utile perché durante il giorno ci farà compagnia e quindi io la mattina, tra l'altro questo aiuta anche a focalizzarsi un attimino su su che cosa sentiamo la mattina perché questo aiuta a concentrarci, a porre l'attenzione su noi stessi su quello che stiamo provando in quel momento quindi che cosa provo in questo momento? mi sento scarica? ok, allora so che ho bisogno di una pietra che mi carichi ok, mi sento, non so, non amata allora so che ho bisogno di una pietra che mi faccia sentire un po' d'amore che mi faccia, non so, raggiungere un po' di amore per me stessa o che attiri verso di me l'amore e così via sento che non sono tanto forte oggi mi sento un po' debole quindi magari prenderò una pietra che potrà darmi forza ok, e questo come ripeto può essere anche fatto con degli amuleti quindi sento di dover aver bisogno di qualcosa magari ho un amuleto che rappresenta quel qualcosa mi porto quell'amuleto con me quindi portatevi, scegliete centratevi un attimino capite di cosa avete bisogno in quella giornata da quel momento in poi scegliete quindi l'amuleto, la pietra o quello che sia per portarvi quel qualcosa di cui avete bisogno e portatelo con voi durante tutta la giornata vedrete che vi farà compagnia specialmente se è caricato quindi consiglio sempre di caricare regolarmente anzi purificare e caricare periodicamente le vostre pietre i vostri amuleti perché ovviamente si scaricano anche loro specialmente se lo usate tanto ovviamente ho fatto video riguardo sul caricamento sulla purificazione eccetera quindi specialmente se sono belli carichi e pronti all'opera veramente saranno un piccolo aiuto durante la giornata ok e con questo ho concluso i miei 5 piccoli step 5 piccole abitudini da fare durante la mattina spero che vi siano state utili come sempre vi dico personalizzate le vostre pratiche perché io non sono una maestra semplicemente condivido con voi quello che sperimento su me stessa quello che imparo quello che mi piace e ho trovato che questi 5 punti appunto per quanto piccoli e semplici portano un po' di magia e un po' di non so centratura forse in più e di carica in più alle nostre giornate specialmente quando ci alziamo un po' negativi ok che giustamente purtroppo capita anche spesso a tutti noi quindi spero di esservi stata utile fatemi sapere se magari provate fatemi sapere se vi trovate bene o se ne scoprite altri insomma fatemi sapere nei commenti e io come sempre vi saluto vi lascio al prossimo video prossimamente e vi auguro una buona pratica 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 e vi auguro una buona pratica